Ciao a tutti amici di tecnologiasumisura.net e benvenuti in questo nuovo filmato in cui vi introdurremo a Rocket Power Grid Che cos'è Rocket Power Grid? In pratica è un'applicazione che crea un lato server sul pc e crea un lato client su un tablet o su uno smartphone che sia esso android o ios e in pratica permette allo smartphone di interagire in diversi modi con il nostro sistema operativo Windows In che modi? Ad esempio potremmo spegnere in remoto il computer lavorare con le finestre come minimizzarle, chiuderle, ridurre le icona oppure monitorare le risorse della macchina e infine forse la più importante di tutte tra le funzioni che questo programma mette a disposizione e creare delle macro in modo che anche durante l'utilizzo di videogiochi o programmi specifici potremo crearci appunto le nostre funzioni e andremo quindi a compensare magari una tastiera che non è predisposta appunto per le funzioni macro Comunque adesso siamo sulla pagina ufficiale qui c'è un video introduttivo che va a spiegare abbastanza bene e assuntivamente tutte le funzioni che appunto questo programma mette a disposizione ma più che altro volevamo mostrarvi il pulsante free download e infatti questo software è quasi totalmente gratuito ad eccezione per alcune opzioni per la parte client sul telefonino che bisogna effettuare degli acquisti in app ma non sono assolutamente necessari e non inficiano assolutamente la fruibilità dell'applicazione Comunque adesso una volta che avrete appunto scaricato e installato l'app potete aprire l'interfaccia utente noi abbiamo già fatto tutto naturalmente vi basterà creare un nuovo account ROCCAT quindi noi facciamo login e a questo punto abbiamo qui davanti la nostra interfaccia principale adesso ci dedicheremo alla parte desktop che è quella che richiede il maggior lavoro di configurazione se si vuole customizzare mentre la parte client non necessita di alcuna personalizzazione ve la mostreremo unicamente per farvi vedere il corretto funzionamento appunto di questo programma comunque qui nella parte di navigazione avrete a disposizione tutte le grid sia quelle di default proposte da ROCCAT sia quelle customizzate che andrete a creare voi tra quelle di default possiamo vedere una schermata che ci permette di monitorare tutte le risorse del sistema dall'utilizzo della CPU a quello della memoria RAM a quello dei dischi magnetici o allo stato della rete di come viene utilizzata poi avremo a disposizione un pannello che ci consentirà di regolare il volume di utilizzare i riproduttori multimediali disabilitare il microfono insomma tutte le impostazioni audio poi di default sempre avremo a disposizione un tastierino numerico un calcolatore e poi questi qui sono i pulsanti per accedere appunto alle funzioni di Windows che citavamo prima come ad esempio il calendario oppure accedere al firewall o oppure Windows update insomma tutti i all prompt comandi insomma tutte diverse funzioni appunto che vi consentiranno di interagire con Windows e inoltre che è quello che pensiamo che sia più utile altre funzioni Windows ma che ci consentiranno di riavviare il sistema spegnerlo, mandarlo in stand by minimizzare le icone chiuderle ingrandirle oppure spostarle ma adesso cerchiamo di capire come creare le nostre grid personalizzate quindi clicchiamo qui su create ah sì mi sono dimenticato l'ultima cosa che questa qui sarà la barra che vi permetterà di selezionare le varie grid dal telefonino e quindi sarà necessario personalizzarla appunto con le grid che più vi interessano per aggiungere una ad esempio questa che non è selezionata basterà selezionarla e poi premere sul pulsante add grid allo stesso modo si potrà spostare per dare una priorità maggiore mentre per eliminarla basterà premere appunto questo tasto qui la X e quindi eliminerà la grid comunque stavamo dicendo che se vi interessa creare invece delle grid personalizzate nulla di più semplice basterà andare qui sulla destra cliccare su edit grid quindi new grid quindi scegliere un nome la chiameremo prova ad esempio potremo anche assegnare un colore in modo da distinguerla dalle altre sarà possibile anche assegnare dei background delle immagini insomma le possibilità di customizzazione sono veramente elevatissime e noi andremo veloci solo per farvi un esempio delle potenzialità che questo programma mette a disposizione comunque abbiamo la nostra dashboard che non ci rimarrà altro che riempirla con le funzioni che più ci interessano qui sulla sinistra appunto abbiamo tutte le funzioni che potremo assegnare alle varie icone ad esempio queste sono quelle che abbiamo visto precedentemente però potremo aggiungere l'utilizzo della cpu media ad esempio oppure per accedere alle risorse del computer avere un'icona di questo tipo insomma come potete vedere dal numero le funzioni sono davvero tantissime e lascio a voi la libertà di personalizzare le vostre grid come più preferite anche la grandezza delle icone è totalmente personalizzabile e inoltre potremo anche assegnare immagini diverse colori diversi insomma libertà totale di personalizzazione anche se magari un po' a discapito dell'intuitività di operare con questo programma infatti ci vorrà qualche minuto prima di sentirsi a proprio agio comunque vediamo veniamo alla parte più importante che reputiamo di questo programma ovvero la libertà di configurare le proprie macro e questo è una funzione non da poco perché magari non tutti hanno la possibilità di avere una tastiera meccanica che dal valore magari di 100-150 euro che ha già le macro incluse in questo caso potremo assegnarle al nostro smartphone e appunto come estensione della nostra tastiera sia durante l'utilizzo dei programmi sia durante l'utilizzo dei videogiochi comunque basterà cliccare qui su macro button quindi premere assegna e generare una nuova macro in questo caso la chiameremo copia 1 a questo punto una volta selezionata facciamo start recording assegniamo ctrl c quindi stop recording diamo l'ok diamo il nome copia alla nostra macro qui come abbiamo già detto prima potremo anche selezionare un'immagine o regolarla a piacere potremo anche assegnare un suono acustico alla pressione della della funzione ad esempio quindi aggiungiamo la macro copia alla alla nostra grid e in ultimo cioè per funzioni come quella copia ad esempio non è necessario creare magari una macro ma basterà uno shortcut quindi per farvi vedere se vogliamo fare la funzione incolla ad esempio viene decisamente in modo più semplice scrivere v qui e poi spuntare il tasto control diamo l'ok la rinominiamo la chiamiamo incolla e anche in questo caso abbiamo creato uno shortcut che soddisferà la nostra esigenza quindi con questa introduzione ah si stavo per dimenticare una cosa non dobbiamo fare altro che aggiungere la nostra grid alla barra e poi dopo aver premuto applica ci la ritroveremo sul telefonino come vedremo successivamente quindi abbiamo concluso con questa parte introduttiva di power grid non ci rimane che concludere i test con la parte dedicata all'iPhone bene ragazzi finalmente siamo pronti a verificare che il rocket power grid funzioni perfettamente cerco di mostrarvi contemporaneamente se il computer e se il cellulare quindi apriamo l'applicazione power grid anche sul telefonino a questo punto basta che l'applicazione si è aperta va benissimo anche se è in background quindi se la chiudiamo rimane comunque aperta in background quindi premiamo su connect e come potete vedere abbiamo tutte le grid che visualizzavamo prima dal programma sul desktop quindi un'interfaccia da cui potremo visualizzare tutte le risorse del computer una in cui potremo interagire con il sistema operativo di windows questa qui è quella di default proposta da rockcat ad esempio vediamo che se una finestra è selezionata potremo ad esempio minimizzarla premendo due volte oppure oppure adesso si è ridotta icona potremo massimizzarla ad esempio così come potremo spegnere il computer spostarla a destra e a sinistra insomma avere tutte le funzioni tra quelle proposte ad esempio potremo premere il pulsante start in questo modo oppure iniziare una ricerca comunque adesso vediamo anche che qui abbiamo il controllo volume potremo regolarlo semplicemente scorrendo in questo modo ma adesso vediamo che la nostra grid customizzata funzioni correttamente soprattutto per quanto riguarda le macro che abbiamo impostato intanto facciamo vedere che premendo sul calendario si apre la data e l'ora e allo stesso modo potremo aprire le risorse del computer adesso vi facciamo vedere che la macro di copia e incolla che abbiamo impostato funziona correttamente naturalmente questo principio si potrà adattare benissimo anche a qualunque altro tipo di comando durante l'utilizzo dei videogiochi quindi ad esempio selezioniamo il titolo premiamo l'icona copia e non so se potete sentire avevamo impostato anche il segnale acustico e tutte le volte che premiamo copia sentiamo appunto questo segnale acustico e quindi una volta che abbiamo premuto copia possiamo premere lo shortcut incolla e come potete vedere l'indirizzo che avevamo copiato precedentemente ora viene incollato quindi insomma è un'applicazione davvero interessante e davvero originale e funziona alla perfezione con questo video abbiamo concluso speriamo che possiate provare questa applicazione che vi possa interessare che vi possa essere utile un saluto a tutti da Valerio grazie